buongiorno signori sono giacomo turnone del team martinelli remax stella polare group oggi siamo a martina franca a soli tre chilometri dal centro cittadino e vedremo una villa totalmente ristrutturata su due livelli con uno splendido giardino e un bellissimo garage la villa si presenta su due livelli al primo livello abbiamo questo terrazzino pavimentato che dà accesso direttamente alla tavernetta salendo le scale arriveremo su un secondo terrazzo che poi darà accesso all'appartamento un appartamento che si compone entrando in una zona living con caminetto abbiamo anche una cucina molto spaziosa con zona pranzo e zona relax e una zona notte disposta in tre vani letto con un bagno con un'altra zona avremo anche l'accesso alla tavernetta. Siamo giunti alla fine della vista. Abbiamo visto una villa in ottime condizioni, circolata da un giardino con frutteto e oliveto. Una villa disposta su due livelli, con doppio camino, climatizzata e una luminosissima tavernetta. Non vi resta che chiamarci per fissare un appuntamento.